Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Proseguono i lavori alla pavimentazione stradale nel viale di accesso di Piazzale Marconi, la cui conclusione era prevista per il 18 marzo. Proprio per questo il divieto di fermata sul lato ovest della strada, valido per tutte le categorie di veicoli, è stato prolungato fino al 18 aprile. Il divieto di fermata è confermato anche negli stalli di sosta posti sul lato sud di Piazzale Marconi, ad esclusione dei veicoli a servizio taxi NCC. Il divieto di transito invece è all'intersezione formata dal viale di accesso a Piazzale Marconi e il viale di uscita dalla stazione Autoline, valido per tutte le categorie di veicoli. Quelli autorizzati a raggiungere la stazione Autoline potranno accedervi ed uscire utilizzando solo la via Meucci e Balladore. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.